Ciao a tutti amici di XCMardor.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'agio abbiamo uscito in redazione il nuovo headset da gaming dell'HyperX, stiamo parlando del Cloud Singer, un paio di cuffie da gaming di tipo stereo. Partendo velocemente dalla confezione, classica confezione con lo schema di colori nero-rosso del brand HyperX, troviamo l'immagine illustrativa del prodotto, alcune caratteristiche, la compatibilità con diversi dispositivi nella parte superiore, nella parte frontale. Passando al retro troviamo ulteriori immagini caratteristiche relative al prodotto. All'interno della confezione troveremo un cartoncino con i ringraziamenti per aver acquistato il prodotto, una quick start guide che sicuramente non ci servirà essendo un paio di cuffie con jack 3,5 mm, un splitter da jack 3,5 mm che ci permetterà di utilizzare le cuffie collegate al computer e quindi sfruttare l'ingresso audio e quello del microfono ed infine le cuffie stesse. Come notiamo il design delle Cloud Stinger è molto elegante e semplice grazie anche a una colorazione prettamente di colore nero. Come abbiamo già detto sono delle cuffie stereo, quindi andranno collegate al computer tramite un classico jack 3,5 mm. Caratteristiche interessanti è la possibilità di ruotare di 90 gradi i padiglioni, quindi di riporle vicino al case magari con un headset holder in modo molto pratico. Partendo dalla parte superiore troviamo una struttura in plastica di colore nero, la headband nella parte esterna ha la serigrafia con il logo dell'HyperX, nella parte interna è dotata di una pratica imbottitura in gomma con un rivestimento in similpelle, possibilità sempre di regolare l'ampiezza delle cuffie, quindi per calzarla meglio sulla testa di ognuno di noi, grazie a un inserto in alluminio. Passando ai padiglioni nella parte esterna troviamo, non solo abbiamo la possibilità di regolarli leggermente con questo movimento, per calzarle sempre meglio, troviamo nella parte esterna il logo HyperX, nella parte interna invece troviamo driver da 50 mm, quindi una dimensione che man mano viene sempre più adottata dai diversi brand per periferiche da gaming, troviamo un'imbottitura molto confortevole con memory foam, sempre rivestita di similpelle, i driver quindi sono di buone dimensioni come anche la dimensione stessa dei padiglioni interni. Passando nella parte inferiore del padiglione di destra troviamo uno slider che ci permetterà di regolare il volume direttamente dal padiglione, senza quindi avere un ingombrante control sul cavo o con la classica rotellina. Passando invece nel lato sinistro troviamo un microfono integrato, regolabile, di buone dimensioni, la possibilità inoltre di attivare e disattivare il microfono semplicemente abbassando ed alzando il microfono stesso. Adesso semplicemente una volta sentito il click saremo capaci di renderci conto se abbiamo la possibilità di parlare o meno e quindi di aver attivato o disattivato il microfono. Circa 360 gradi, scusate, 180 gradi di ampiezza per regolare il microfono stesso e niente troviamo un classico cavo con jack da 3,5 mm che andrà collegato o direttamente allo splitter per utilizzare le cuffie vicino al computer o eventualmente semplice per connetterlo alle console quali Xbox One, PS4 o direttamente al nostro smartphone e tablet per ascoltare semplicemente della musica. Con questo è tutto, rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximarduro.com Un saluto a tutto lo staff Un saluto a tutti